I malumori erano nell'aria da tempo e da ieri sera, al termine di un sofferto consiglio generale, la Fondazione di Piacenza Evigevano non ha più un presidente. Francesco Scaravaggi, eletto il 16 marzo 2013 al termine di un periodo burrascoso, ieri ha proposto l'azzeramento del consiglio di amministrazione formato da sei membri, in caso contrario si sarebbe dimesso e così è stato. Servivano 13 voti ma il presidente ne ha ottenuti soltanto 10, 8 i contrari, un astenuto. Impossibile per Scaravaggi lavorare in queste condizioni, dissidi interni e mancato rispetto della figura del presidente, le sue lamentele. Io in questo anno ho fatto le mie rimostranze per il fatto che mi sorpassavano, alcuni miei consiglieri mi sorpassavano con delle loro iniziative, per cui il presidente diverse volte veniva a sapere il giorno dopo quello che qualcuno aveva fatto il giorno prima. Ho fatto questo proposto di cancellare completamente il CDA per poi rifarlo io questa volta completamente, ma ad una condizione che se per caso non fosse passato in consiglio io mi rincorravo. L'ho detto da subito, anche perché credetemi dal punto di vista mio personale non ho mai capito tutto l'attaccamento che qui dentro c'è per star qua. Non l'ho capito, faccio finta di non capirlo, ecco, facciamo così. Un epilogo amaro per l'ente di via Sante Eufemia ma non per il presidente di Missionario che tira un sospiro di sollievo. Io un po' me l'auguravo, infatti ho detto per battuta che avevo messo una bottiglia e la volevo stappare, ma la stappa sul serio perché è una bicicletta per me è troppo pesante. Trovo in una persona più a modo, più competente, più che va bene. A me spiace per la fondazione. Io per la fondazione di questo tipo non sono molto adatto. Tra i voti a favore di Scaravaggi ieri c'era anche quello di Sergio Giglio che lo scorso anno uscì sconfitto dalla battaglia proprio per la presidenza. Oggi forse nel momento più difficile si è trovato un ragionamento forte. Sono stati momenti di molta tensione però abbiamo capito che era il momento di cambiare. Io ho rispettato l'impegno che avevo preso e ho votato a favore di Scaravaggi ma questo non è stato sufficiente. Ho apprezzato il coraggio del presidente nel porre di fronte al Consiglio generale questa cosa che ha portato ai risultati che conosciamo. Su questa giornata è stata pesantissima veramente perché comunque le cose si sono messe giù molto male, un po' per tutti sia per il CDA che per il presidente. In base all'articolo 21,6 dello statuto della fondazione in caso di assenza o impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vicepresidente Vicario quindi il CDA non decade. Ora si attendono le nuove candidature per la presidenza. Grazie a tutti.